Dunque adesso cantiamo insieme l'inno che sarà l'inno tema della nostra settimana di preghiera ed è il 457 Ci mettiamo in piedi Il Signor ti chiama all'opera d'amor Santa e benedetta opera del Signor Al solenne appello vuoi rispondere tu Vuoi fede il fratello? Vuoi servir Gesù? Credi prega con ardor Non cessar di lavorare pel Signor Abbi fede, speme e amor Gesù renderà possente il tuo lavoro Vedi il tuo fratello come geme ancora Sotto il gran fardello dell'antico error Tu lo puoi salvare se con tutto il cuor Gli saprai parlare dell'eterno amor Credi prega con ardor Non cessar di lavorare per il Signor Abbi fede, speme e amor Gesù renderà possente il tuo lavoro Gesù renderà possente il tuo lavoro Capitolo 14, versetto 12 Capitolo 14, versetto 12 E dice Qui è la constanza dei santi Chi sono coloro che osservano il comandamento di Dio E la fede di Gesù Amen Facciamo una preghiera Padre nostro che sei nel cielo Ringraziamo infinitamente La opportunità che tu ci dai Signore della conoscenza del sabato E di poter essere tutti insieme qui radunati Per ascoltare la tua parola Padre Che sia questa parola Signore Riempita nel nostro cuore Nella nostra mente E che possiamo meditarla Signore Ogni giorno Per la crescita spirituale E per la salvezza delle nostre anima Grazie Che lo Spirito Santo Signore Sia con noi Ti invitiamo a restare con noi Signore Per che ci accompagni In tutta questa giornata E nella nostra vita Signore quotidiana Grazie nel nome di Gesù Cristo Amen Amen Buon sabato Stamattina quando mi stavo preparando per venire Mi dicevo Ma oggi predicherò A pochissima gente Perché Un bel numero di fratelli Sono in gita in Sicilia E invece i fratelli di Pesero Ci hanno Riempito Della loro presenza E siamo lieti che siate qui con noi Credo che la Chiesa di Cesena Forse è la Chiesa più vicina a Pesero O Iesi è più vicino Siamo lì Solo che noi siamo Nella direttrice dell'autostrada La Chiesa di Iesi deve fare tutto un giro Per cui siamo più vicini Dovremmo fare un gemellaggio D'accordo? Sì lo facciamo Bene Io sono qui E voglio ringraziare il Signore Per la settimana di preghiera Che comincia Ringraziarlo per l'ospite che ci sarà Che conosco molto bene Personalmente E credo che il Comitato di Chiesa Ha fatto una grande scelta Nel chiedere A Eugen Di venire a condurci Non mancate Perché ne trarrete un gran beneficio Io ho sentito alcune predicazioni Ma soprattutto So degli eco Che vengono dalle Chiese Che l'hanno sentito Visto che siamo all'inizio Di una settimana di preghiera L'ho fatto normalmente Ma una ragione in più oggi È quella di Prenderci un attimo di tempo In silenzio E avere ognuno di noi Una preghiera silenziosa Preghiamo Perché questa settimana di preghiera Sia di grande benedizione Non so se i fratelli di Pesaro Hanno già fatto la settimana di preghiera Più avanti Benissimo Preghiamo anche per Le Chiese Della nostra Unione Che in questi giorni Sono riunite Per la settimana di preghiera Chiediamo il capo E leviamo al Signore Una preghiera Silenziosa E per me Chiediamo anche al Signore Di guidarci Nel momento di Ascolto Della sua parola Preghiamo Amén Avrete capito Dal testo Che è stato letto Qual è il tema Che intendo condividere Con voi oggi Qui è la costanza Dei santi Che osservano I comandamenti Di Dio E hanno la fede Di Gesù Il tema Della legge Dei comandamenti Di Dio È un tema Molto divisivo Noi siamo Oggetto Di Non di critiche Ma di sospetto Perché Insistiamo Nell'osservanza Dei comandamenti Di Dio Negli anni 1970 1975 Il Consiglio Mondiale Delle Chiese Con sede A Ginevra Chiese Alla Chiesa Adventista Di avere Dei colloqui Colloqui Di confronto Colloqui Per mettere A punto Le reciproche Convenzioni È stato scritto Un libro Su questi colloqui Il titolo è Ve lo dico Prima in inglese Poi lo traduco So much in common Così tanto in comune Poi puntini Puntini È un punto interrogativo E in quei colloqui Ho letto quel libro Per punto tale Che il decano Di Firenze Di alcuni anni fa Mi chiese Di scrivere Una relazione Su quel libro E proprio Il tema Dei comandamenti Di Dio È stato Uno dei temi Non di scontro Ma di dibattito Acceso La convinzione Generale Nella cristianità È che Gesù È venuto Per Sminuire Il ruolo Dei comandamenti Di Dio Dando più peso Per certi versi Giustamente Alla fede E alla grazia Che abbiamo In Gesù È importante Mettere al centro La fede La grazia È l'opera Di Gesù Cristo E credo Che su quello Come stiamo studiando In questo trimestre Ne avremo Per l'eternità Stamattina Nel gruppo Della scuola del sabato Che ha avuto Il luogo di là Dove ero io È stato detto Che la conoscenza Di Gesù Non è Esauribile L'Apostolo Paolo Scrivendo Ai Colossesi Dice In lui Sono rinchiusi Tutti i tesori Della scienza E della conoscenza Non è A caso Che negli ultimi Vent'anni I libri Che escono Su Gesù Sono di numero Superiore A tutti gli altri Nel secolo Scorso 94 milioni Di libri Sono stati scritti Su Gesù Per cui Sì La legge Assolutamente Ma prima di tutti Gesù Tuttavia Credo Che sia opportuno Sottolineare E capire L'importanza Della legge Ho un testo Sotto gli occhi Che vi leggo Capitolo 7 Dei Corinzi Il versetto 19 L'Apostolo Paolo Scrive La circoncisione Non conta nulla La incirconcisione Non conta nulla Ma ciò che conta È l'osservanza Dei comandamenti Di Dio C'è un Amico Testimonio Di Geo Qui nella zona Che conosce molto bene Samuele Ogni tanto Ci sentiamo Il telefono È uno dei punti Di osservazione Che lui mi fa Ma voi con quella legge Dove pensate Di arrivare Da nessuna parte La legge È semplicemente Data da Dio Perché la osservassimo C'è un altro testo Che vi voglio leggere Che Siccome ci si serve Molto di Paolo Per Sostenere Che la legge Non è più importante Romani 3.31 Dice Annulliamo noi La legge Mediante la fede No di certo Anzi Confermiamo La legge La legge L'Apostolo L'Apostolo Paolo Nell'Epistolo degli Ebrei Dice La legge Non ha portato A nessuna Conclusione Salvifica Ma non perché La legge Ma per noi Il problema Non è nella legge Il problema è in noi La legge È comunque Prodotto Della grazia E della sapienza divina Noi siamo salvati Per grazia Mediante la fede Gesù L'ha detto fortemente Quando si incontrò Con Nicodemo Quella frase Fortissima Poiché Dio Ha tanto amato il mondo Che ha dato Il suo genito figliuolo È tratta È nel discorso Che Gesù Ha con Nicodemo È di lì Che se vogliamo Comprendere bene Quella frase Dobbiamo inserirla In quel contesto La legge Non salva Ma la trasgressione Della legge Condanna E su questo Dobbiamo essere chiari Chi trasgredisse La legge Per scelta Sceglie La condanna La legge In Galati 2.16 È detto Chiaramente Voglio leggere Questo testo Per togliere Ogni equivoco Possibile Che possa Sorgere dal mio dire In Galati 2.16 C'è una frase Importantissima Dice Leggo dal versetto 15 La legge Fatta di comandamenti In forma di precetti È stata data No Legge dal versetto 14 Lui infatti È la nostra pace Lui che dei due Popoli Ne ha fatto uno solo E ha abbattuto Il muro di separazione Abolendo Nel suo corpo Terreno La causa Di nemicizia La legge Fatta di comandamenti In forma di precetti Per creare in sé Dei due Un solo uomo Facendo la pace Di riconciliare Tutti e due Con Dio In un corpo unico Mediante la croce Sulla quale Fece morire La nostra Inemicizia Sto leggendo Un libro L'ho quasi finito Di un professore Di teologia americano Il titolo del libro È quasi impossibile Tradurlo E ho letto Alla pagina 96 Una frase importante Che dice così I principi Della legge Di Dio Sono eterni A causa Del peccato Il Dio Ha aggiunto Dei Delle frasi Proibitive Non fare Non fare Non fare Ma i principi Positivi Della legge Sono eterni E nell'eternità Avremo ben chiari Questi principi Il guaio È che purtroppo Sono stati Prese in considerazione Gli aspetti Proibitivi Della legge Che ripeto Sono stati Dati A causa Del peccato E io questa mattina Voglio rivedere Con voi I dieci comandamenti Quindi andiamo In esodo 20 E cogliere Gli aspetti Positivi Della legge Di Dio Cercare Di cogliere La funzione Estremamente Educativa Pedagogica Della legge Di Dio In esodo Capitolo 20 Li leggiamo Ad uno ad uno Cercando di cogliere Questi principi Positivi Allora Dio Pronunziò Tutte queste parole E disse Io sono Il Signore Dio tuo Che ti ha tratto Dal paese D'Egitto Dalla casa Di schiavitù Non avere Altri di Oltre a me Il principio Positivo È che c'è Un solo Dio Che c'è Dio E qui si presenta Io sono Il Signore Il tuo Dio Nella lingua originale Io sono Yahweh Il tuo Dio La parola Yahweh Nelle Bibbie Nella nuova Riveduta L'ho già detto Un'altra volta Ma per qualcuno Forse che non c'era Lo ripeto La parola Yahweh È tradutta In questa Bibbia La nuova riveduta Di cui io sono munito Qui Con la parola Signore Tutto in maiuscolo Avrete notato Che la parola Signore È tutta in maiuscolo Quella parola Quando è in maiuscolo È perché Nell'originale Era Yahweh Per cui Quando dici Io sono il Signore Io sono Yahweh Ma su questo Meriterebbe Una lunga Fare una lunga Riflessione Perché Gesù Cristo È il Signore In Filippesi Al capitolo 2 È detto Egli è stato Stabilito Signore È Dio Gesù Cristo È il Signore Quando noi leggiamo Signore Nell'Antico Testamento Adesso io mi sto Inoltrando In un discorso Che magari Pomeriggio Visto che Abbiamo una riunione Di approfondimento Biblico Pomeriggio Qualcuno Se vuole Potremmo approfondirlo Un attimino Quando la scrittura Parla di Signore Nell'Antico Testamento Parla di Gesù Gesù È Yahweh E questa è una dottrina Fondamentale Della Chiesa Ventista Non è qualcosa Che vi dico ora io Nella speranza Dell'uomo È detto Chiaramente Che Yahweh È Gesù E quando dice Io sono il Signore E si riferisse a Gesù Significa In altre parole Chi mi ama È Gesù che lo dice Osservi i miei comandamenti Per cui Chi ha dato I dieci comandamenti È Gesù E qui lo dice Io sono il Signore Che ti ho tratto Da paese d'Egitto È stato Gesù Ma questo non deve stupirci Stamattina nel gruppo Della Scuola del Sabato Abbiamo studiato La testimonianza Che dà Dio Padre Su Gesù Ma È stato letto Anche un testo Da noi Un testo Estremamente importante Dove Viene Messo In risalto Che Gesù È Yahweh E il testo È Ebrei 1 9 10 Vi ricordate In quel capitolo L'Apostolo Paolo Ci riporta Che Dio parla Gli angeli Dice degli angeli Ne fa dei venti Quelli che erano commessi Ricorderanno Di quello che ho detto Ma poi dice Quando parla del figlio Dice Il tuo trono O Dio È nei secoli Dei secoli E poi dice Tu Tu Signore Nel principio Hai creato la terra È il Padre Che parla al figlio I cieli I cieli sono opera Delle tue mani Non solo Gesù Ha dato i dieci comandamenti Che adesso Ne vedremo Negli aspetti positivi Ma Gesù È colui Di cui si parla Non si usa la parola Yahweh Si usa la parola Dio Elohim Nel principio Dio Elohim Creò i cieli E la terra E il Padre Parlando al figlio In ebraio Dice Tu Hai creato I cieli E la terra Gesù È il creatore E come tale È il legislatore È il datore Della legge Ma veniamo A cogliere Gli aspetti positivi Secondo comandamento Non ti fare scultura Né immagine alcune Delle cose che sono Lassù nei cieli E qua giù sulla terra Nelle acque sotto la terra Non ti prostrare davanti a tali cose E non servir loro Perché io Il Signore Il tuo Dio Sono un Dio geloso Punisco l'equità Dei padri Sui figli Fino alla terza e quarta generazione Di quelli che mi amano E uso benignità Fino alla millesima generazione Versi quelli che mi amano E seguono i miei comandamenti Il secondo comandamento Ci dice Cosa non è Dio Dio non è opera Delle tue mani Non è un idolo Non pensare Che tu puoi definire Dio Dio è al di là di tutto Dio è Dio Non ti fare scultura Non ti fare un'immagine Di queste cose Non pensare Di ridurlo A una opera Delle tue mani Noi quando pensiamo Questo comandamento Chiaramente pensiamo A tutte le immagini Che ci sono Qua e là Però Fondamentalmente Il comandamento Non Non punta A quelle immagini Soltanto Punta al fatto Che Dio è al di sopra Di ogni nostra immaginazione Dio è al di là Paco è certo Basta pensare Al testo di ebrei Che vi ho detto poco fa Quando dice Tu signore Nel principio Hai creato la terra I cieli Sono opera Delle tue mani Qualche tempo fa Vi ho fatto vedere Qui un libro Dal titolo Dio La scienza E le prove Vi ricordate In quel libro C'è un capitolo Che parla Dell'immensità Dell'universo Che si associa A un testo Della scrittura Quando il Dio Dice Ad Abramo Guarda le stelle La tua progene Sarà più numerosa Le stelle In quel libro È scritto Ma questo L'abbiamo anche In un libro Che è stato pubblicato Dalla nostra casa editrice Alcuni anni fa Al di là Dell'immaginabile Dove è detto Che nell'universo Ci sono più stelle Di quelli Che sono I chicchi di sabbia Nelle grandi spiagge Del nostro pianeta Incredibile Oggi la scienza Ci dice Che le galassie Sono miliardi E l'uomo Oggi Conosce Soltanto Quello che potrebbe essere Il 5% Dell'universo Che grande Dio E non lo puoi ridurre In un'immagine Non puoi scolpirlo Non puoi pensare A qualcosa Che tu gestissi Con le tue mani Il fatto positivo Di questo comandamento È che Dio È al di sopra Della nostra immaginazione Delle nostre creazioni Terzo comandamento Versetto 7 Non pronunciare Il nome del Signore Il tuo Dio In vano Perché il Signore Non riterrà innocente Chi pronuncia Il suo nome In vano L'aspetto positivo Di questo comandamento Che qui è presentato In termini Di non fare È Prova rispetto Porta rispetto Per Dio Non puoi Pensare a Dio Come qualcuno Dei tuoi pari Mi ricordo una volta Mentre lavoravo in fabbrica Saldavo con la maschera E vidi Dallo specchietto Del vetro Della maschera Che dietro di me Mi stava guardando Era il capo Dei saldatori Non potevo fermare La saldatura Perché era una saldatura Molto dedicata Ho finito l'elettrodo Mi sono girato Ero avanti Ho fischiato Sono qua E lui è venito Sì ma non sono il tuo cane Che mi chiami con un fischio Sono rabbrividito In quel momento Noi Abbiamo Un Dio Del quale Non possiamo Come dice Questo comandamento Pronunciare Il suo nome In vano Il rispetto Per Dio L'aspetto positivo Di questo comandamento È Dio E Dio Non confonderlo Poi il quarto comandamento Lo sappiamo tutti Molto bene Lo leggeremo In un'altra occasione Per intero Cercando di capire La profondità Di questo messaggio Ma ci ritorno Alla fine Dopo aver letto La seconda parte Dei comandamenti A partire dal versetto 12 Onora Tuo padre E tua madre Finché i tuoi giorni Siano prolungati Sulla terra Che il Signore Il tuo Dio Ti dà Onora Questo è già positivo In sé Onora L'istituto Della famiglia Porta rispetto Al valore Della famiglia Quinto Sesto comandamento Non uccidere Il rispetto Per la vita Non commettere Ad ulterio Il rispetto Della persona Umana Il rispetto Della famiglia Anche qui Non attestare Non rubare Il rispetto Della proprietà Non attestare Il falso Contro il tuo prossimo Il rispetto Della dignità Dell'altro E infine L'ultimo Non desiderare La casa Del tuo prossimo Nella moglie Del tuo prossimo Nel servo Del tuo prossimo Nella sua serva Nel suo bue Nel suo asino Nel alcuna cosa Del tuo prossimo Il rispetto Della Proprietà Altrui Di ciò Che è parte Dell'altro Che scienza In questi comandamenti Se le leggiamo Nel positivo Acquistano Un valore Straordinario Acquistano Un'importanza Istruttiva Sono una guida Che ci istruisce Ci sono diversi Salmi Che parlano La tua legge Mi è Adesso vi leggo Soltanto I riferimenti Poi potete Salmo 119 98 73 La tua legge Mi istruisce Mi dà Intelletto La legge Di Dio Non è Soltanto Una serie Di diritti È un processo Educativo Al rispetto Reciproco Alla crescita Dell'umanità Non ci sarebbe Il mondo Che abbiamo Oggi Se questa legge Fosse stata Ritenuta Nel suo valore Positivo Non ci sarebbe Chi distrusce Le case Altrui O chi Invade Il paese Altrui O chi Ruba Qualsiasi cosa La legge È positiva E noi Crediamo Che la legge Di Dio Ha ancora Tutto il suo valore Nella scrittura Una Delle prerogative Che Dio Chiede Al suo popolo È di tenere Alta la legge Quando la scrittura Dice Abbiamo letto Il testo Prima Che osservano I comandamenti Di Dio La parola Osservare Va molto più In là Del guardare Io osservo Questi fiori Belli Che sono qui Davanti a me Non è questo Osservare La parola Osservare Viene da un termine Che noi troviamo La prima volta Quando Dio Parla con Caino Dov'è Abele Tuo fratello Vi ricordate La risposta Di Caino Sono forse io Il guardiano Di mio fratello Quella parola Guardiano È la stessa parola Che è tradotta Altrove Con osservare Essere custodi Il Signore Vuole che noi Siamo custodi Non soltanto Della sua parola La Bibbia Conclude Con un invito A tener conto Della sua parola Ma della legge Essere custodi Difensori Della legge E questo Crea una Cultura Di legalità Perché la cultura Della legalità Non è soltanto Non fare Ma è Fare Ecco perché Quando Gesù Riassumerà Tutta la legge E i profeti Nello Scema Ammerai Il Signore Con tutto Con tutto il tuo cuore Con tutte le tue forze Con tutta la tua anima Con tutto te stesso Un principio positivo E Cristo È venuto Per dare forza Alla legge di Dio Credo Fratelli e sorelle E mi avvio E mi avvio E mi avvio la conclusione Che è un grande privilegio Essere stati Istruiti Per il bene Nostro Attenendoci Alla legge Di Dio Siete d'accordo? Amen È un grande privilegio Muoversi In rapporto Alla legge Di Dio Vi ho detto Prima qualcosa Circa La grandessa Dell'universo In quel libro Che è stato pubblicato Dalla casa editrice Alcuni anni fa Al di là Dell'immaginabile Ve lo ricordate Qualcuno L'avrà sicuramente C'è una cosa Ancora più Interessante Che è stata Questa Dimostrata Dimostrata Affermata Scientificamente Affermata Scientificamente Quando Ci fu lo studio Condotto Da un'equip Di scienziati Americani Organizzati E autorizzati Dal congresso Di fare uno studio Sul genoma umano Vi ricorderete E lì L'autore Il direttore Di questa Equip Che è partito In questa ricerca Da ateo Da agnostico A metà della ricerca Ha pubblicato Un libro Il dito di Dio The finger of God Perché ha detto È talmente complesso Che non può esserci Che una mente Straordinaria Pensare questo Ma Quello che hanno detto In quella ricerca Hanno detto Che nel corpo umano Fra cellule E tutti i componenti Della cellula Ci sono più componenti Di quanto sono Le stelle Le stelle Dell'universo Di quanto sono I chicchi di sabbia Nelle spiagge Del nostro mondo È incredibile È impensabile Chi ha fatto Tutto questo L'ha fatto Nel rispetto profondo Di regole Di leggi Le leggi della salute Sono leggi Che ha messo il creatore Ecco perché Leggiamo che sono Le stesse leggi Che hanno L'impronta E la mano Dei dieci comandamenti Essere Osservatori Della legge di Dio Essere custodi Garanti Protettori Della grandessa Della creazione divina A partire da noi A partire da noi Anni fa Mi lesse un libro Sull'occhio umano In quel libro C'era scritto Che l'occhio umano È stato Il modello Su cui si sono Ispirati I creatori Della telecamera Queste telecamere Che abbiamo qui O del tubo Cattolico Cattodico Del televisore Che porta L'immagine Sullo schermo Questo è più facile Da pensare Il tubo Cattodico A 12 cavi Aveva Adesso forse Ne ha di più Il nervo ottico Dal quale Si sono ispirati Per creare queste cose Che Che non si vede Ad occhio nudo A 300.000 Cavi Avvolti In un doppio strato Di mielina Per proteggere Da eventuali contatti Che potrebbero Creare dei problemi Già l'occhio Soltanto Dovrebbe Portarci A una fede Nell'autorità Nella potenza Nella sapienza Di Dio Vi ho soltanto Citato Il quarto comandamento Il sabato Devo dirvi qualcosa In più adesso In conclusione Il sabato Si trova a metà Fra i comandamenti Che parlano Del Come tenere In considerazione Dio E di come Dobbiamo tenere La seconda parte In considerazione Gli uomini Il prossimo Il sabato Gli ha tutti e due Ricordi del giorno Del sabato Per santificarlo Perché in sei giorni Dio ha creato I cieli La terra E poi Non farai alcun lavoro Né tu Né il tuo servo Né il tuo bue Né il tuo asino Arriva Ad una Tale Dettagliata Applicazione Positiva E Dio Ha cura Anche dei nostri animali Vuole che ci curiamo Positivamente Del creato Fratelli Pensando a queste cose Mi sento di dire Grazie Signore Che ci hai dato Questa rivelazione Della tua Grandiosa Legge È un Privilegio Come Chiesa Che ci è stato dato Di essere ancora Legati Alla Bontà Alla Beltà Della legge di Dio Siete d'accordo? Sì o no? Amen Amen Lungo rivi Quieti ombrosi Nella sua Grecia E Dio Conduce E in amen Il Signore Il Signore Il Signore È il mio pastore Nulla mai Mi mancherà Nulla mai Di giustizia Pei giustizia Pei sentieri L'al rigol E l'esperienza Il Signore Il mio pastore Nulla mai mi mancherà la tua ben sia a me davanti e i tuoi beni o grando vizia sì il mio cuore è traboccante o signor di tua ledizia chi fedele il buon pastore sulla terra seguirà nella presa del Signore lunghi giorni abiterà il Signore è il mio pastore nulla mai mi mancherà il Signore è il mio pastore nulla mai mi mancherà ameno grazie Francesca ci alziamo per la preghiera conclusiva Signore nostro Dio ti ringraziamo ti ringraziamo per la tua parola e ti ringraziamo per la tua legge che tu ci hai trasmesso e che governa tutto l'universo Signore noi vogliamo essere parte positiva, tentativa e garante del tuo creato guidaci o Signore a contemplare le bellezze della tua legge faccelo capire e facci capire che questo è un dono che tu ci dai per un vivere positivo per un vivere in armonia in armonia con te in armonia con la creazione in armonia con il prossimo ti ringraziamo Signore di questa benedizione che ci dai e ti chiediamo Signore di renderci osservatori custodi appassionati di vivere secondo la tua volontà secondo la tua legge te lo chiedo nel nome di Gesù Amen C'è un altro canto prima di questo devo ricordare qualcosa che è stato dimenticato è stato anche votato nel comitato settimana che oggi pomeriggio subito dopo l'agap verso le tre avremo un approfondimento biblico diversi di voi mi hanno chiesto ma perché non approfondiamo temi biblici e oggi approfondiremo un tema fondamentale della scrittura vi invito 15 dalle 15 quindi dalle 15 per questo approfondimento biblico non mancate adesso cantiamo l'ultimo inno guidati dalla nostra Francesca ormai sei nostra sì allora il 16 cantiamo solo la prima strofa l'ultimo 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 l Orso cantiamo e tutti insieme giubiliam, in terra e in cielo adoriamo. Carissimi che ci avete seguito via streaming, vi auguro una buona giornata in compagnia della parola di Dio, perché questo è il posto ideale, il sabato come giorno della parola di Dio. Un saluto caro a tutti voi.